Continuano a Sapri ed in tutto il golfo di Policastro i disagi causati dalla ritardata ed in alcuni casi mancata consegna della corrispondenza a domicilio. Migliaia le segnalazioni e le proteste da parte dei cittadini che ad esempio rischiano il taglio della luce, acqua e gas per il mancato arrivo delle bollette oppure attendono in vano la consegna di plichi importanti o ancora le ricevute di ritorno delle raccomandate. Sono soprattutto gli anziani, chi non ha internet e chi non può domiciliare le bollette sul proprio conto corrente bancario o postale a soffrire per i disservizi che si protraggono ormai dalla scorsa estate. Sapri è centro per lo smistamento della posta in numerosi comuni del comprensorio all'estremo sud della provincia di Salerno. Il sindaco Giuseppe del Medico ha inviato una nota ufficiale di protesta all'amministratore delegato di poste italiane Francesco Caio, al direttore degli affari istituzionali del gruppo Loredana Cortis e al direttore dell'ufficio provinciale di recapito. Nonostante le rassicurazioni ricevute a tutt'oggi il servizio risulta gravemente carente da mesi e continua ad essere fonte di disagi per tutti gli utenti che temono un'interruzione nella fornitura dei servizi essenziali. Queste le parole di Del Medico il quale annuncia in assenza di impegni concreti da parte di poste italiane, i cittadini saranno tutelati attraverso le vie legali.